Buon mercoledì 15 novembre. Prima di tutto ricordo che domani ci sarà il laboratorio e la scuola. Sul tema della contemplazione apriamo un percorso sul tema della contemplazione, che significa una vita attiva, senza esercitare nessuna funzione predatoria nei confronti delle relazioni che incontriamo nel corso della nostra vita. È un invito a riflettere sul discernimento, sulla meditazione necessaria per esprimere pienamente un agire serenamente impotente e capace di accogliere in sé la priorità assoluta nei confronti del bene comune. Quel bene comune che va tutelato, promosso, giorno dopo giorno, di fronte alle angherie dell'egocentrismo e dell'antropocentrismo, che poi si traducono in azione politica. Quello che sta accadendo nel nostro paese in questi giorni. Si attenua il diritto fondamentale dello sciopero attraverso il passaggio in una commissione. Un garante, non ho capito bene di che cosa si tratti, probabilmente eletta dai comandanti di turno, i quali sollevano eccezioni relativamente alla piena legittimità dello sciopero. Si cerca di attenuarlo, vedete, non lo si vieta, ma lo si attenua e, ancora una volta, Matteo Salvini, quello che non ha mai lavorato, si permette di precettare, costringere gli altri a lavorare. Non perché siano delle persone che non vogliono lavorare, ma perché amano la giustizia, per questo scioperano. Ci perdono, lui che non ha mai lavorato, ci ha sempre guadagnato molto dalla politica. è un campione straordinario di quella partitocrazia che si è insediata nei luoghi del potere e padroneggia costantemente. Ha fatto l'euro parlamentare, ha fatto il ministro, oggi è anche vicepresidente. Pensate un po' quale fulgida carriera quest'uomo ha saputo costruire, senza aver mai lavorato e si permette di interferire sul diritto fondamentale dello sciopero. Ma questo, naturalmente, genera non solo una necessità di scendere in piazza, ma contemporaneamente di mettere mano alla nostra disponibilità a essere co-protagonisti del processo democratico che non si traduce solo nel giorno delle elezioni o nella delega ai parlamentari, i quali oggi rischiano di perdere. Un aspetto fondamentale per la democrazia. Una elezione senza vincolo di mandato. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono liberi nella loro conoscenza, non possono essere sottoposti all'egemonia del partito che li ha presentati. Questo vincolo e autonomia che è rappresentato da questa norma costituzionale che si vuole cancellare. In nome della stabilità del governo, dell'efficienza, le norme anti-ribaltone, immagino che la stragrande maggioranza delle persone che vivono quotidianamente la difficoltà a arrivare a fine mese, di queste argomentazioni si sentono del tutto estranei. Ma attenzione, questa estraneazione non deve assolutamente tradursi in inazione, in disponibilità ad agire. Dunque, scendiamo in piazza, magari pochi prima, poi progressivamente potrebbero essere anche tanti. E penso al presidio del Tribunale di Padova, di sostegno alle cosiddette famiglie arcobaleno. Cioè, le famiglie che esprimono il legittimo diritto fondamentale di essere rispettati nella propria inclinazione sessuale ed esercitare la funzione educatrice nei confronti delle generazioni che vengono dopo di loro in un rapporto di madre-madre, figlio-figlie, padre-padre, figlio-figlie, non sto delirando, eh? Sto dicendo che le coppie omosessuali hanno il sacrosanto diritto di educare dei figli. Non è contro la morale cristiana, eh? se lo facesse, la morale cristiana, si assumerebbe l'onere di giudicare. E a questo proposito ricordo un passaggio fondamentale di questo pontificato di Papa Francesco quando, in una conferenza stampa, affermò con candore chi sono io per giudicare relativamente a questi temi. poi la Chiesa ha espresso anche ambiguità su questo, ma nella condizione umana della Chiesa ci sta anche l'ambiguità, ma quella affermazione è fondativa di un'etica nuova. Il presidio al Tribunale di Padova è stato organizzato perché 33 realtà familiari hanno visto cancellata l'iscrizione all'anagrafe perché ci sono due genitori dello stesso sesso che stanno educando, amando, dei figli e delle figlie. E il sindaco di Padova, nonostante l'intervento della procura di cancellazione con libertà di coscienza con coraggio ma non con temerarietà con libera coscienza continua a iscriverli e questo è un atto rivoluzionario, sovversivo legittimo legittimo, sì sta nell'ordine della legge nella sua piena completezza che è animata dalla dimensione dell'amore visto che molti cercano di tirare in ballo la Chiesa beh, si vadano a leggere il Vangelo nel quale si afferma che la legge deve essere nutrita e fondata sulla legge dell'amore senza la dimensione dell'amore nella dimensione invece dell'odio nei confronti dei diversi non vi è alcuna legittimità sostanziale della legge sì, vi è quella formale ma tutto questo legittima l'obiezione di coscienza che ancora una volta deve tornare ad abitare le nostre esistenze con umiltà con sobrietà con misericordia con accoglienza dell'altro nelle diversità a questo proposito mi rivolgo al mondo dei club i quali dichiarano di aver costituito delle comunità multifamiliari ebbene aprano un approfondimento fondamentale sul concetto di famiglia mi è stato detto che il prossimo congresso nazionale dei club l'anno prossimo molto probabilmente avrà il tema della famiglia della comunità della società ebbene è un'occasione per ribadire con forza che il concetto di famiglia non è riducibile alla famiglia cosiddetta tradizionale che molto spesso in sé contiene forme che sono antitetiche ad una educazione autentica all'amore all'amicizia alla libertà al rispetto della diversità alla solidarietà quanti genitori spingono i figli alla competizione non fanno nulla di legittimo ma da un punto di vista etico sono antitetici rispetto a quell'etica della solidarietà e della condivisione che abbiamo affrontato al congresso di Assisi a maggio affinché i titoli di congressi non siano bolle di sapone bellissimi ma poi svaniscono ma siano spinte innovative che chiamano la coscienza dei membri del club a riflettere profondamente nella fattispecie delle famiglie arcobaleno sul pieno diritto pieno diritto a riconoscere la legittimità delle diverse inclinazioni sessuali si aprirebbe un bellissimo dibattito all'interno del club dunque stiamo vivendo i contraccolpi di una crisi profonda culturale dove una minoranza facinorosa cerca di esercitare un potere assoluto occupando mi sembra sei reti televisive intessendo delle manovre economiche finanziarie all'insegna della tutela dei diritti dei ricchi e dell'espropriazione delle persone a reddito medio-basso perché questo stanno facendo non investono sufficientemente sulle strutture sanitarie tanto meno investono sui meccanismi di tutela e promozione della salute che significa anche salvaguardia dell'ambiente non lo fanno non lo fanno perché sentono in loro un mandato egocentrico che deve tutelare gli arricchiti questo è quello che sta accadendo si pensano una maggioranza plebiscitaria in realtà sono una minoranza anche rispetto a un'opposizione piuttosto frammentata che ha il torto della frammentazione che ha in sé l'incapacità di condividere disegno comune antitetico a quello presentato da Giorgia Meloni e dai suoi amici e amiche disegno antitetico non dimentichiamoci che rappresentano rispetto all'universo degli aventi diritto al voto una netta minoranza facendo un calcolo approssimativo credo che non si vada oltre al 30% gli altri messi insieme all'opposizione eletti forse arriveranno che so io più o meno alla stessa cifra lo deriviamo anche dai sondaggi forse qualche percentuale in più ma forse sto esagerando col 30% forse un po' meno ma farò un calcolo preciso su questi aspetti che sono irrilevanti ovviamente allo stato attuale perché il Parlamento eletto è legittimo il governo è legittimo fa le cose che ritiene di dover fare sulla base delle proprie convinzioni ma non rappresenta una maggioranza assoluta del paese cercano di mettere mano alla cultura cercano di zittire la cultura che li contrasti ma c'è anche un rischio un pericolo nella cultura oppositiva a questa cultura sovranista ed egocentrica che si immagini la cultura come una derivazione della politica no è la politica che deve guardare alla cultura non viceversa e a questo punto mi viene in mente anche l'intervista di Eugenio Scalfari e Enrico Berlinguer famosa intervista sulla partitocrazia sulla sottolineatura di come i partiti occupando i luoghi del potere si sono fatti protagonisti della corruzione ma non solo della corruzione anche di una democrazia egemonica quello che noi dobbiamo rigenerare non è l'antipolitica ma l'antipartitocrazia i partiti hanno piena legittimità sono tra i soggetti fondamentali del meccanismo democratico ma non basta ci sono forme di cittadinanza attiva di associazionismo altre forme di organizzazioni della società che devono poter esprimere la loro posizione e tra questi anche i club dunque i club sono chiamati ad alcuni compiti fondamentali da un punto di vista etico aprire un dibattito all'interno sulla legittimità delle diverse inclinazioni sessuali fondamentali fondamentali per riconoscere quel rispetto alla diversità che è contenuto nel fondamento stesso dei club poi devono porre mano anche che ha un dibattito interno sulla legittimità di respingimento nei confronti di coloro che sono diversi il sovranismo nazionalista i club non sono un luogo di auto mutuo aiuto per sfigati no sono un luogo democratico nel quale si dibatte si accoglie ovviamente tutto tutti e tutte ma contemporaneamente si esprime con forza e determinazione i principi costitutivi amore solidarietà amicizia e rispetto della diversità e si esprime anche concretamente la caratteristica ecosistemica del club attraverso la sua costante trasformazione evolutiva che si concretizza nella divisione almeno una volta all'anno dei club questo testimonia non solo che è possibile il processo evolutivo a partire dei club ma che i club testimoniandolo ricordano alle comunità locali che noi siamo soggetti tra altri soggetti viventi siamo un'unica specie e contemporaneamente dobbiamo fare i conti con la complessità della vita su questo pianeta il club è un soggetto politico sì a tutti gli effetti non si assoggetta alla partitocrazia ma è un soggetto politico non rimane indifferente neppure di fronte alle scelte legittime legislative le può contestare con piena legittimità e deve farlo con piena indipendenza con piena autonomia pur riconoscendo l'intreccio di relazioni che caratterizzano una comunità locale quindi pronto a cooperare con le istituzioni e con le altre realtà nel centro alcologico tra parentesi visto che il club si occupa di molte altre cose territoriale funzionale intuizione di udoli largamente disattesa nel farlo si prende la piena e legittima libertà di esprimere la propria posizione etica che è fondata sul dovuto nei confronti dell'altro che bussa la tua coscienza e bussando la tua coscienza ti chiama a essere protagonista ad agire secondo i dettami di un'etica della responsabilità della condivisione della solidarietà non moralismo etica etica si accolgono tutti anche quelli che risultano impenitenti rispetto alla questione del bere ma il club deve essere un luogo sì di amore solidarietà amicizia ma anche di stimolazione scuotente rispetto alla nostra tendenza a stagnare a essere immobili non è il luogo dell'immobilismo non è un oasi nella quale ci rechiamo una volta alla settimana per un'ora e mezzo tanto per decantare le nostre conflittualità no no il club è profondamente radicato nella comunità locale ed è un sistema di cura del disagio mentale esistenziale che si avvale di tanti altri strumenti educativi scusate ma io uso anche la parola terapeutici nel senso di servizio nei confronti della sofferenza attraverso la condivisione della parola e della relazione dobbiamo ritrovare entusiasmo stare nel dibattito politico e culturale del nostro tempo entrare nel merito delle scelte che fanno i governi che indicano i partiti sapendo di essere contemporaneamente un soggetto di cittadinanza attiva che fa politica a tutti gli effetti non è facile ma è necessario farlo e l'invito oggi più che mai è continuare a farlo l'occasione di domani sulla contemplazione ne è un esempio quindi mi aspetto che domani siano molte le persone che vengono a partecipare a condividere il significato di una vita attiva come ci ricorda Anna Arendt nella dimensione contemplativa che ripeto è un agire serenamente impotenti nel pieno rispetto delle diversità e nella capacità di costruire ponti di pace tra le diversità buona giornata a tutti e a tutti